Oggi è coperto. Finalmente si respira un po'. E cosa vedi? C'è un signore barbuto che porta a spasso il cane, una ragazza che corre con le cuffie, un furgone bianco patteggiato. Cosa? Un furgone bianco patteggiato. E che c'è dentro? Un uomo, non sembra. Un uomo, ma... Ma la faccia la vedi? No, non riesco a vedere, c'è il vetro. Ma la faccia, riesco a vederla? Non la vedo, comunque sta andando via, forse stava solo caricando qualcosa. No, Rita, andiamo... Che succede, Diana? Che c'hai? Che è? Potrebbe essere il maniaco, quello dell'incidente. Il maniaco? Andiamo via, ti prego, portami... Tesoro, tu non puoi vivere così nel terrore. Lo so io di cosa hai bisogno tu. Andiamo.